Il canto degli spiriti sono liberi da questo reale. Oh, non c'è di che. Insomma, abbiamo vinto? Direrei un gran sospiro di sollievo. Non ho fretta di intrappolare la mia anima mortale. Non sarà necessario, Nicolai. Il futuro è cambiato. Il Cronorium? Leggilo. Scopri la tua chiamata. Devi mantenere la tua anima. Servirà a sconfiggere il Dottor Monty. Chi? Ehi. Ehi. Io sono ancora qui. Aspetta. Che cosa ho fatto? Ero contento che ti avresti lasciato morire disalvato. Ero così triste. Il ciclo è interrotto, Dottore. Pertanto, le polizie di assicurazione non servono più. Vorrei poterti dire che mi dispiace, Edward. Ma mentirei. No. Tu puoi aiutarmi? Sei un dottore? Aspetta. Non lo sai. Chi sono io? Ho visto miracoli e calamità. Dimensioni, nascere e colasare. Solo io ho passato la chiave. No! Voglio essere io. Quello che ha fatto tutto il lavoro. Volevo continuare. Questa bene io. Non, 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 non.